Dunque tra le interpellanze che sono state discusse nel consiglio comunale del 18 aprile vi poniamo l'attenzione quella del consigliere Lucio Tiozzo, trovate l'intera interpellanza, l'intera discussione con la risposta del sindaco e poi la soddisfazione o meno del consigliere nel link in descrizione. In estrema sintesi il consigliere Lucio Tiozzo ha chiesto all'amministrazione notizie riguardo a quella presunta cessione dell'ex base missilistica di Cabianca e dice se c'è stata, se è vero che c'è stata sulla stampa, era riportato che c'è stata la vendita dell'asta, come mai il comune non è intervenuto e comunque come mai non ha fatto dei ragionamenti con la comunione pubblica, con il consiglio comunale eccetera eccetera eccetera. Il sindaco poi ha risposto che era stata messa all'asta la parte relativa al comune di Cabianca, l'ex base missilistica di Cabianca insiste in parte sul territorio di Chioggia e in parte sul territorio di Cabianca, quindi quella parte del territorio di Cabianca il comune non può avere la prelazione pratica e comunque la parte che è all'interno dell'area del comune di Chioggia al momento sembrerebbe che non sia stata ancora messa in vendita in pratica. Ma con questo contesto il consigliere Lucio Tiozzo ha espresso un ragionamento a mio avviso molto interessante perché riguarda il fatto di come un'amministrazione dovrebbe decidere o meno di tenere certi immobili oppure acquistarli oppure rilevarli. E' il caso di questi giorni che c'è tutta questa polemica a mio avviso assolutamente assurda ma comunque questa è la mia opinione sulla batteria Forte San Felice che è stata rilevata da un privato e il comune di Chioggia quando c'erano i 5 Stelle non l'ha preso. Ma non è che i 5 Stelle, l'amministrazione precedente, Ferra, erano cattivi che non l'hanno dovuto prendere. Nel comune di Chioggia abbiamo tantissimi immobili, per esempio un altro è anche i magazzini del sale che sono messi come sono messi. Anche lì il comune avrebbe potuto rilevarli, tra virgolette, gratuitamente dal demanio. Poi però bisogna sistemarli e bisogna vedere se il comune ha le risorse per sistemarli e soprattutto bisogna vedere se anche l'opinione pubblica è d'accordo di sistemarli ma anche facendo un raggiamento su dove togliere le risorse. Perché insomma tutti quanti vorremmo avere la botte piena e la moglie ubriaca, poi bisogna vedere se riesce a avere tutte e due. Allora in questa ottica crediamo che questa interpellanza che è stata appunto discussa in Consiglio Comunale con gli argomenti che ha trattato Lucio Tiozzo sia molto interessante e sarebbe il caso di seguirla con attenzione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.